Non è mai esistita un'anima più amorosa e tenera della mia, un'anima così colma di bontà, di pietà, di tutto ciò che è tenerezza e amore. Eppure non c'è anima così solitaria come la mia, solitaria si noti non a causa delle circostanze esteriori, ma di quelle interiori. Voglio dire, insieme alla mia grande tenerezza e alla mia bontà, è penetrato nel mio carattere un elemento di tipo completamente opposto, un elemento di tristezza, di egocentrismo e dunque di egoismo, che ha un duplice effetto, deformare e pregiudicare lo sviluppo e tutta l'azione interna di quelle altre qualità, e pregiudicare, deprimendo la volontà, tutta la loro azione esterna, la loro manifestazione. Un giorno o l'altro mi devo decidere ad analizzare questo fatto, a esaminare meglio, a discriminare gli elementi del mio carattere, perché la mia curiosità per tutto, alleata alla mia curiosità per me stesso e per il mio carattere, mi porta a tentare di capire la mia personalità. E' stato tenendo conto di queste caratteristiche, che ho scritto nel descrivere me stesso, nel The Whitest Day, One like Rousseau, a misantric lover of mankind. Io posseggo di fatto, molte, troppe affinità con Rousseau. In certe cose i nostri caratteri sono identici. Il caldo e profondo, inesprimibile amore per il genere umano, bilanciato da una porzione di egoismo. Questa è una caratteristica fondamentale del suo carattere, e anche del mio. Una delle mie complicazioni mentali, orribile più di quanto le parole possano esprimere, è la paura della follia, che è già per se stessa follia. Mi sento in parte in quello stato che Jolinan descrive come suo nelle poesie di apertura, credo, delle sue nevrosis, impulsi, alcuni criminali, altri folli, che raggiungono in mezzo alla mia angoscia una terribile tendenza all'azione, una terribile muscolarità, sentita nei muscoli, voglio dire, impulsi normali, per me, e l'orrore e l'intensità, ora sempre più numerosi e forti, sono indescrivibili. Il primo nutrimento letterario della mia infanzia l'ho trovato nei racconti del mistero e di terribili avventure. Avevo scarso interesse per quei libri che sono definiti per ragazzi e che narrano vicende emozionanti. Non sentivo nessuna attrazione per la vita sana e naturale. E il mio interesse non era per il probabile, ma per l'incredibile, e non per le varie gradazioni dell'impossibile, ma per l'impossibile per natura. Ho avuto un'infanzia tranquilla, una buona educazione, ma da quando ho avuto coscienza di me, ho intuito in me stesso una tendenza innata alla mistificazione, alla menzogna artistica. A ciò si aggiunga un grande amore per lo spirituale, per il misterioso, per lo scuro, che, dopo tutto, non è altro che una forma e una variante di quella mia caratteristica. Ed ecco, la mia personalità pronta per l'intuizione. Era un poeta animato dalla filosofia, non un filosofo con facoltà poetiche. Amavo ammirare la bellezza delle cose, scoprire nell'impercettibile, attraverso le cose insignificanti, l'anima poetica dell'universo. La poesia della terra non muore mai. Possiamo dire che le età trascorse sono state più poetiche, ma possiamo dire che la poesia è dappertutto, nella terra e nel mare, nei laghi e sulle rive dei fiumi. E anche nelle città. Non lo si può negare. E ciò mi è palese dall'essere qui, seduto. C'è poesia in questo tavolo, in questo foglio, in questo calamaio. C'è poesia in questa frenesia di automobili per le strade. In ogni minimo, comune, ridicolo movimento di un operaio che dipinge l'insegna di una macelleria dall'altra parte della strada. Il mio senso interiore predomina sui miei cinque sensi in modo tale da farmi vedere le cose di questa vita, ne sono convinto, in modo diverso dagli altri. Esiste, per me, esisteva, tutta una ricchezza di significato in una cosa così ridicola come una chiave, un chiodo su una parete, i baffi di un gatto. Trovo una completezza di suggestività spirituale nello spettacolo di una chiozza con i suoi pulcini che impettiti attraversano la strada. Trovo un significato più profondo delle lacrime umane, nell'odore di sandalo, nei vecchi barattoli buttati nella spazzatura, in una scatola di fiammiferi abbandonata in un rigagnolo, in due fogliacci sporchi che in un giorno di vento svolazzano e si rincorrono lungo la strada. Perché la poesia è meraviglia, stupore, come se un essere cadesse dai cieli pienamente cosciente della sua caduta, attonito delle cose, come se uno conoscesse l'anima delle cose e si sforzasse di recuperare questa sua conoscenza, ricordandosi che non era così che lui le conosceva, non con queste forme e con queste condizioni, ma non ricordandosi di null'altro. È necessario ora che io dica che tipo di uomo sono, il mio nome non importa e neppure altri dettagli esteriori su di me, interessa solo il mio carattere, tutta la struttura del mio spirito è di esitazione e di dubbio, niente è o può essere positivo per me, tutte le cose oscillano intorno a me e io con loro inserto verso me stesso. Tutto è per me incoerenza e mutamento, tutto è mistero e tutto è gravido di significato, ogni cosa è sconosciuta, simbolo dello sconosciuto, la conseguenza è orrore, mistero, una paura troppo lucida. Per le mie tendenze naturali, per le circostanze che si verificarono nella mia prima infanzia, per l'influenza degli studi intrapresi sotto il loro stimolo di quelle tendenze, per tutto questo il mio carattere è di tipo interiore, autocentrico, muto, non autosufficiente ma perduto in se stesso. La mia vita è stata tutta di passività e di sogno, tutto il mio carattere consiste nell'odio, nell'orrore dell'incapacità e nell'incapacità di atti decisivi, di pensieri definiti che pervade tutto ciò che io sono fisicamente e mentalmente. Non ho mai preso una decisione che fosse nata dall'autocontrollo, mai ho fatto trasparire esternamente la volontà cosciente. Ogni mio scritto è rimasto incompiuto. Si interponevano sempre nuovi pensieri straordinarie, imprescindibili associazioni di idee che avevano come termine l'infinito. Non posso impedire la ripugnanza che i miei pensieri hanno a portare a termine che che sia. Una cosa semplice mi suscita diecimila pensieri e da questi diecimila pensieri sgorgano diecimila associazioni. Non ho la forza di volontà di eliminarli o di arrestarli e neppure di riunirli in un solo pensiero centrale perdendo di vista dettagli senza importanza ad essi associati. Essi mi attraversano. Non sono pensieri miei ma pensieri che passano attraverso di me. Io non pondero, sogno, non sono ispirato, deliro, so dipingere ma non ho mai dipinto, so comporre musica ma non ne ho mai composta. Strane concezioni delle tre arti, splendidi voli dell'immaginazione carezzano il mio cervello ma io li lascio sonnecchiare finché muoiono perché non ho la forza di dar loro corpo, di farne cose del mondo esterno. Il mio carattere è tale da farmi odiare l'inizio e la fine delle cose perché sono punti definiti. Mi tormenta l'idea che si possa trovare una soluzione per i problemi più alti, più nobili della scienza, della filosofia. L'idea che qualcosa possa essere determinata da Dio o dal mondo mi fa orrore. Che le cose più importanti possono essere realizzate, che un giorno gli uomini possono essere tutti felici, che si possa trovare una soluzione ai mali della società. L'idea di tutto questo mi fa andare su tutte le furie. Eppure non sono cattivo né crudele, sono pazzo e in modo difficile da concepire. Pur essendo stato un lettore vorace appassionato, non mi ricordo un libro di quelli che ho letto. A tal punto le mie letture erano state del mio spirito, sogni miei, anzi, provocazioni di sogni. Persino ricordo di fatti, di cose esterne e fago più che incoerente. Rabbrividisco il pensiero di quanto poco rimane nel mio spirito di ciò che è stata la mia vita passata. Io, un uomo convinto che l'oggi è un sogno, sono meno di una cosa di oggi. di ciò Grazie a tutti